Ciao, benvenuti nella soffitta di Lala e Po. Oggi vi vorrei parlare brevemente di questo puzzle che ho comprato da Flying Tiger. La scatola è molto bella ed elegante, è esagonale e sulla copertina si possono vedere dei pezzi di puzzle lucidi. Girandola si può vedere che dentro c'è un puzzle circolare a gradiente di colore, quindi sfumato. In tutto ci sono 500 pezzi e ho deciso subito di acquistarlo per il suo prezzo contenuto, che era di circa 3 euro. Aprendolo mi sono molto stupita dello spessore dei pezzi, che non sono per niente sottili, anzi sono abbastanza spessi. Ognuno ha una forma differente, si incastrano facilmente, infatti come potete vedere il puzzle si può anche alzare senza che si rompa. Dividendo i pezzi in gradiente di colore, come consigliano anche le istruzioni, l'assemblaggio non è per niente difficile, anzi passerete diversi momenti divertendovi, cercando i pezzi giusti per completare il puzzle.